Il primato c'è di nuovo ed è davvero una buona notizia. È il porto di Gioia Tauro che movimenta più container in Italia in un anno. Il record apparteneva già al porto della Piana ma la riconferma non era affatto scontata. Oggi a Gioia Tauro si movimentano quasi 3 milioni e 150 mila Teus. Il Teu è l'unità di misura della dimensione standard di un container 20 piedi ovvero poco più di 6 metri. Il presidente dell'autorità di sistema portuale dei mari Tirreno Meridionale e Ionio Andrea Agostinelli ha incontrato le aziende portuali nei locali del Lente a Gioia Tauro per rendere note queste cifre ma anche per discutere con le imprese operanti nell'indotto di alcune soluzioni da studiare per migliorare la funzionalità del porto. L'accento è stato posto anche sulla necessità di rispondere alle esigenze di produttività dello scalo attraverso una maggiore flessibilità organizzativa del lavoro e si discuterà presto con i sindacati della possibilità di riconoscere delle premialità ai lavoratori.